Questo è un album, un album degli orrori, degli orrori che riguardano dei poveri animali, dei cani, dei poenter. Sono animali bellissimi, non si trovano in un canile, ma in un allevamento, ed è proprio questo che mi ha stupito quando ho ricevuto le foto. Come un allevatore, un allevatore Enci, possa mantenere i suoi cani in un degrado simile. Come possa abbandonarli a se stessi, solo forse perché non guadagna più. Perché il cane va di moda, la moda finisce, il cane non serve più. Siamo molto vicini a Natale, e molti decidono di regalare un cane, un cucciolo. Attenzione, un cucciolo è una grande responsabilità. Prendere un cucciolo è un atto d'amore, ma ricordatevi che un cucciolo è un cane. Diventerà grande, ma nel diventare grande ha bisogno di aiuto e di assistenza. Non si può comprare un cucciolo pensando, va tutto bene. Il cucciolo parà pipì, pupù, ci metterà molto tempo ad imparare. Ci vuole pazienza, ma per la pazienza che diamo, riceveremo tantissimo amore. Perciò, se decidete di prendere un cane, pensateci bene. E poi pensate a tutti i cani che arrivano in questa situazione, a tutti i cani che vengono poi lasciati in questa condizione. Pensateci bene. E se volete prendere un cane, perché avete deciso di fare una cosa buona, perché avete deciso di assumervi questa responsabilità, allora andate in un canile. Andate in un posto come questo, che deve essere disfatto. E fatevi carico di questi poveri piccoli cani. Grazie. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.